Io so fare una cosa, so se posso ciò fare Rimango real, rimango nella narrazione di strada Ma ridò un po' della mia ricchezza al mio quartiere, alla mia gente Lo trovo molto più sano che farsi la guerra tra gang Non so come dire, no? Sei d'accordo, Tia? Non ti ho ascoltato Muschio selvaggio Ok Non devo mettere le cuffie io Se vuoi sì, se no no Secondo me l'importante è che stai attaccato, se no non si sente un cazzo Qua parla proprio attaccato Com'era? La mia pistola fa morti la chiamo Rick Va bene? Fai tu l'intro o la faccio io? Vai fallo tu Ciao amici di Muschio selvaggio Aspetta Ok ci sono Vado, 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 tutti seri eh Amici di Muschio selvaggio Ospite da noi questa sera Rondo da Sosa e la SSG ragazzi Più casino ragazzi Io non voglio fare dei gesti che ho paura che dico qualcosa di strano con le mani Fai il gesto sbagliato o sei finito Comunque grazie, mi hanno appena regalato una collana, hai visto? Secondo me è solo... È in prestito o ve l'avete regalata? Eh lo vedi, te l'ho detto È solo scenica Abbiamo la collana per la Ferrari Giusto, giusto Ah no, no, no Va bene La tolgo, te la ridò allora Vabbè per l'intervista tienila dai Eh no, ma loro devono... Ha detto che scendono Ah ok Grazie Ho imparato anche il saluto, guarda Mi l'ha insegnato lui Pronto? Vai Cos'è? La chiappa La chiappa Ah devo chiappare Scusa, rifacciamo Rifacciamo Facciamo finta che ci siamo appena visti Aspetta Aspetta Oh amica bro Madonna Va bene Allora Rondo da Sosa In arte Rondo da Sosa Il tuo nome è Tia Si può dire il tuo nome? Qual è? Mattia Mattia Possiamo dire il più giovane Sei, anno 2002 Giusto? Madonna mia Come mi fai sentire vecchio Cazzo Anno 2002 Classe 2002 Vieni da San Siro Il trapper Allora non so se dire il più controverso Perché secondo me non è il più controverso Però sicuramente quello Che all'estero è riconosciuto di più Grazie Credo sia vero Cioè Apprazio Sei stato innanzitutto il primo artista italiano A calcare Rolling Loud Giusto? Hai aperto il concerto di Travis Scott Right Giusto? Yeah Cioè Come cazzo? È una cosa che io non ho mai capito no? Non avendo mai avuto una carriera internazionale no? Cioè come hai creato le tue connection internazionali? Ti dico la verità Si sono tutte create in base al rispetto Al rispetto Alla fine Fuori comunque Tutti i rapper comunque vivono tutti Cioè Vengono tutti da quella realtà lì Che poi è la realtà veramente di strada Quindi quando vedono adesso Che anche ci sono anche altre persone Che vengono comunque dall'Italia Che hanno lo stesso loro modo di vivere Capito? Siamo su quella stessa onda Su quelle stesse cose Li portano tutti rispetto Io porto rispetto a loro Si creano sempre buone connessioni Quindi di questo è l'importante Cioè tu credi che gli altri non ci siano riusciti Perché è una questione proprio che Il vero non ha riconosciuto il vero Come direbbero I vecchi rapper Secondo me è così Sì Vabbè Punto di vista No può essere Perché effettivamente Secondo me L'estero ti ha riconosciuto di più Di quello che l'Italia Non ti ha ancora riconosciuto Magari a livello artistico Può essere? Sì Anche perché hai fatto tante scelte Secondo me discograficamente E che io ho sempre trovato curiose Perché molto spesso Sei uscito solo con i video su Youtube Non sei mai entrato nella competizione Su Spotify Che è una cosa molto Vabbè poi si dice Nessuno è profeta in patria Nessuno è profeta in patria Questo è vero Però è interessante Quello che diceva Fede Cioè Ti ricordi il momento in cui Hai ottenuto quel tipo di approvazione Anche fuori? Sì diciamo Cioè proprio gli step Dopo un anno di carriera Comunque ho iniziato a fare le mie cose Però la roba è subito arrivata Dopo un anno Cioè non l'ho neanche cercata Dico la verità Credo dopo Face to Face Ok Sì Dopo Face to Face E il contatto Anche Louboutin E il primo Ti ricordi Il primo artista internazionale Che ti ha contattato? Il primo comunque Con cui ho stretto Proprio Un legame di amicizia E tutto quanto È Central Sì lui è stato il primo Cioè tu sei proprio così Con Central Perché poi un sacco di rapper Si vantano di essere amici Di Central Sea E spesso non è vero Secondo me non è vero Secondo me lui è l'unico Che è veramente amico Di Central Sea Probabile È vero non lo diremo Però sì 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 Vabbè però è vero E quando lui doveva ancora esplodere Era già esplodo No quando ancora doveva esplodere E quindi che sono le amicizie migliori È come essere amico di uno Che diventa miliardario dopo Poi mi ha aiutato un sacco Anche a Londra Mi ha fatto conoscere Un sacco di persone Mi sono costruito un network Grandissimo a Londra Anche di gente veramente Tanto tanto importante Hai aperto il suo concerto Lo ringrazierò sempre Sì mi ha invitato Il suo concerto All'Alexandra Palace A Londra E cazzo che boh Ah anche a Londra Ti ha invitato Io pensavo solo a Milano No no anche a Londra Porca buttana E la prima domanda Che mi viene in mente è Perché cazzo Non te ne vai all'estero Visto che in Italia Comunque hai avuto E stai avendo Comunque un sacco di Possiamo dire problemi Vicestitudini Sì me ne sono già andato L'anno scorso Ho fatto un anno a Londra E poi adesso sono ritornato Così ma sto pensando Di spostarmi verso l'America Adesso Ti mancava la pasta asciutta Esatto La prima cosa che hai fatto Musicalmente rilevante Nella tua vita La prima cosa Quando ti sei reso conto Questa è la roba mia Allora io Lavoravo come cameriere E Dove Ho fatto anche il lavapiato Dici il nome del ristorante Si chiama Biffino Biffino Salutiamo il Biffino Un saluto Erano bravi o erano stronzi? Sì dai Non voglio parlare male Di chi mi ha dato da mangiare Anche se Anche se Anche se Anche se erano delle merde Mi dovete ancora 70 euro Di straordinari Quindi facevi il cameriere? Sì Lava piatti anche E Un giorno Mi sono proprio rotto i coglioni Già sapevo che sarei diventato Chi sono ora Mentre lavoravo Così E Un giorno mi sono rotto i coglioni E ho detto a tutti Io mi licenzio Vado a fare musica Ciao a tutti Buona fortuna Nella vita E via E cosa ti hanno risposto? Ce la farai o non ce la farei? No Me ne sono andato Non lo so Non hai avuto risposta? No Però Dopo Ho fatto subito Il mio primo pezzo Che si chiama Free Sammy Ed è stato subito Il primo Che mi ha fatto notare Da un po' Tu Cioè già da subito Il primo pezzo Porca puttana Che roba Credo che sia indicativo Poi di questa generazione La velocità Madonna Non so se posso dirlo Che siamo stati in studio insieme Posso dirlo? Siamo stati in studio insieme E ho notato una cosa Che rispetto alla mia generazione È la velocità Cioè c'era questo produttore NKO Bravissimo Che saluto Un mostro Un mostro Un big up per NKO Praticamente c'era NKO E Udini Che attenzione Si chiama Ud Dini È sottile Certo Sottile Praticamente Attaccano il computer Dovevano fare una base da zero Attaccano il computer Cioè io ho il tempo Di caricare la sigaretta elettronica E fanno Finito E il pezzo Era una hit totale Quindi è Veramente appartenete A una generazione Rispetto alla mia Che è tutto impostato Sulla velocità È tutto rapido E tu non subisci un po' Questa cosa Che è tutto Troppo veloce Magari No? Si si Hai ragione Anche secondo me Così Però Cioè Come va ora il mondo Le cose sono veloci Capito? Si va bene Cioè Dura tutto Un attimo Capito? Una cosa è trend oggi Domani non è più trend È tutta una roba di consumismo Alla fine Quindi Si si è molto americano Però ci sta Perché alla fine È una fast life Secondo me è meglio vivere così Cioè vivere tutto velocemente Fin quando non arriva la tua fine Puoi dire che te la sei vissuta Piuttosto che vivere magari Capito? Si dice avere motion No? Piuttosto che non avere motion E Cioè la fine Cioè la fine della vita è uno Io faccio finta di aver capito cosa vuol dire motion Cosa vuol dire motion? Motion è quando Lo slow motion? No al contrario immagino Ah Slow motion better than no motion Cioè Chiaro ragazzi Vabbè Motionless battle Ok Top group Per me è chiaro Motion è quando sei attivo Quando sei Ti svegli La mattina vuoi fare soldi Vai a dormire È il contrario dello slow motion Motion io no Eh giusto Giusto E non hai Francamente Senza superbia Paura di scomparire Con la stessa velocità? Ci penso ogni tanto Onestamente No perché se ci pensassi Non sarei dove sono ora Mi piace Secondo me tu sei un cultore Dell'arte della visualizzazione Cioè tu visualizzi l'obiettivo E dici ci arrivo Sì sempre Non c'è Piuttosto muoio Capito? Come mia moglie Senza il piuttosto muoio Come mia moglie Senza il piuttosto muoio La parte creativa Sì sì alla fine Tutto puoi fare Basta che te lo metti in testa Che cosa è impossibile E quindi qual è l'obiettivo ad oggi? Perché secondo me Se sei tornato in Italia Comunque nel tuo cuore Il fatto di Essere re in patria Non so come dire No? C'è Rimane Sì ma a me Mi basta essere Il ragazzo Che viene dall'Italia Che ce l'ha fatta all'estero Che è rispettato all'estero Che quando torna in Italia Tutti possono dire Visto il tipo E' andato fuori Perché qua alla fine Non riusciva a fare le cose E' andato fuori Si è preso il suo rispetto E se ne è tornato a casa E perché secondo te Qua non sei riuscito a fare le cose? Cultura Mentalità Perché poi Però ora si sta sviluppando Quindi ci sta E' come se fossi un martire Capito? Però ci sta alla fine Cioè più vai avanti Più questa cosa Perché poi alla fine Tu Rispetto magari ad altri casi Anche a te Ti hanno dato il Daspo Giusto? Il famoso Daspo Willy Giusto? Che non so nemmeno Se esiste ancora Esiste ancora L'hanno tolto Perché era un po' Era tipo una sorta di esilio Ma più che altro È stata Cioè io quella roba L'ho vista come una Veramente come una mancanza Di rispetto Nei confronti Di questo Willy Qui Perché alla fine Noi ci hanno dato un Daspo Perché Perché è successa Una cosa Davanti a una discoteca Anche perché per questo motivo Per il pregiudizio Perché alla fine Era uscita la mia canzone Era Bodi No? L'Italia aveva vinto il mondiale La mia canzone Era appena uscita Era virale In tutto il mondo Sono andato all'old fashion Chiedendo solamente di entrare Per fare una serata Però mi hanno detto Tipo no Tu non puoi entrare Capito? Da lì poi si sono creati Delle Vabbè una rissa Delle cose Però ti hanno dato il Daspo Il Daspo di una persona Che comunque è stata picchiata a morte Capito? Sì sì no Infatti era una misura Che era una sorta di esilio Non so se te lo ricordi Davide Sì 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 Cioè praticamente tu non potevi più Mettere piede Era una roba un po' Bizzarra Non potevo andare nei supermercati Non potevo andare A prendere il gelato Non potevo Però diciamo che Il rispetto poi Ad avvenimenti successivi È Diciamo la cosa più lieve Che si è vista Diciamo no? Per assurdo Per quanto condannabile Per l'amor di Dio No? E poi dopo Hai avuto problemi A suonare anche no? Esatto Cioè non ti facevano fare le date Problemi di qualsiasi tipo E devo dire che anche io Ho avuto questa esperienza Quando io l'ho chiamato Quest'estate a Love Me C'era un pregiudizio Nei suoi confronti Devo dire grosso E tutti mi dicevano Non chiamare Rondo Per? Perché il suo pubblico Fa casino Ok Pubblico Maranza Ok E quindi inizialmente Ho detto Porca puttana Comunque Duomo Immagina se succede un casino Comunque è una responsabilità Poi ci ho pensato No poi Mi ricordo che ho parlato Con una persona Non mi ricordo chi Che mi ha detto Che hai fatto un concerto A San Siro Quest'estate Possibile Quest'inverno Hai fatto qualcosa Sotto San Siro Vicino a San Siro Quello della Nike Quello della Nike E mi ha detto Guarda che non è vero Guarda che il pubblico Sono ragazzi giovani E non è vero Cioè E allora ho detto Vabbè me la rischio Vaffanculo E effettivamente poi Non è successo E che rapporto hai Con il tuo pubblico Con il mio pubblico Parli di fan Sì Ho un bel rapporto Perché Cioè alla fine Sembra che Cioè i miei fan Hanno la mia stessa visione Cioè tu Te lo assicuro Tu puoi guardare Tutti i commenti Puoi cercare chiunque Tu non troverai mai Un mio fan Che ti insulta O che insulta Un altro rapper Di un altro Mai Perché i miei fan Sono diversi Cioè io Hanno la mia stessa visione Capito Alla fine Ogni fan si rispecchia Nell'artista che segue Capito Però i miei fan Non vanno mai A commentare le cose Di altri artisti Tipo questo Invece mi è proprio capitato Altri fan Capito I miei fan Sono umili Capiscono la mia visione Comunque Anche quando vado ai concerti Vedo sempre tutti Guardo sempre tutti In faccia Per vedere io Con chi mi sto relazionando Capito Io a chi sto parlando A che persone sto parlando Certo A me mi sembrano Tutti ragazzini intelligenti Poi ovviamente Fai la serata Viene quello che non è fan Viene lì solo per far casino È normale C'hanno il pretesto Sì è normale E visto che sono no Il tuo specchio Qual è invece il difetto Che copiano Che copiano Il tuo difetto Che magari Adottano I miei fan Io ti dico la verità La roba è che Io Lo dico qua apposta I miei fan Non sono i Maranza Quelli con le TN Quelli con la Non li ho creati Io con la gente lì I miei fan sono altre persone E finalmente Tutti lo stanno capendo La mia visione È quello che vogliamo portare noi Quelli vogliono portare La visione Di essere Un ragazzo Che sta buttato Tutti i giorni in strada Che pensa che Essere un Maranza Andare in giro È bello Invece noi portiamo la roba Che tu sei un ragazzo Devi aiutare la tua famiglia Devi fare i soldi Devi essere un hustler Questo è quello Quello che noi portiamo Non portiamo la roba Di essere Maranza Non ci associamo A questa gente E non li rappresentiamo Tanto che nel disco Quando uscirà questa intervista Sarà già uscito il disco Con Arti5 Avete pensato A restituire Diciamo Un po' Un po' Di quello Della ricchezza Che avete ottenuto Alle scuole Dalla quale provenite Giusto? Esatto Cosa avete fatto? Vuoi raccontarcelo? Abbiamo Io sia Io anche Arti Nella mia scuola Nella scuola di Arti Abbiamo istruito Un fondo Che sarebbe Una borsa di studio E in pratica Ci sarebbe stato Un vincitore Nella mia scuola Nella scuola di Arti E mi sa che Sono già stati annunciati I vincitori Giusto no? E verranno premiati A breve Penso Tra due o tre giorni Secondo me Questa cosa È una figata Nel senso che Nel momento in cui La narrazione del rap Game È diventata Effettivamente Ne parlavamo anche Nelle puntate precedenti Un po' Un po' Peso È arrivato Gora? È arrivato Gora È arrivato Gora Dove cazzo sei? Chi è Gora? Gora Dove cazzo eri? È un'ora che ti aspettiamo È un'ora che aspettiamo Gora Fammi il saluto Quello vero Nostro Vai vai Sei pronto? Fai finta che non ci vediamo Aspetta Arriva 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 Minchia Gora Cazzo Grazie Gora Bene bene Guarda tra l'altro È in ritardo Ed è l'unico Che non è vestito In tema Scusami Allora No dicevo Rispetto Rispetto Alla Alla grevità Come direbbe Marra Che mi ha preso Il rap game Ok Il fatto che tu voglia Spostare questa cosa In una narrazione Del restituisco Al mio quartiere Rimango real Rimango nella narrazione Di strada Ma ridò Un po' Della mia ricchezza Al mio quartiere Alla mia gente Lo trovo Lo trovo molto più sano Che farsi la guerra Tra gang Non so come dire No Ovviamente Sei d'accordo Tia Non ti ha ascoltato Ma no Sì Ognuno Sì sì Comunque penso Che sia sì Anche se ognuno Poi alla fine Vive come vuole Nella sua vita No no Beh certo Però vabbè Io dico Quello che penso Visto che parlavi Di famiglia Il rapporto Con loro Siamo una famiglia gigante Eh descrivicelo un po' Eh infatti Sono curioso Siamo Posso farti una domanda venale Del cazzo Sì basta Che non sia stupida Non la fare Vabbè Adesso c'ho paura No ma le collane Che hanno loro Gli le regali tu O se le comprano loro No sono Era stupida Sono nostre Era stupida Beh perché Perché non lo so Cioè perché magari Cioè non è tutti Sono nostre Beh di nostre Siamo un grande gruppo Siamo una grande banca Però che eleganza Perché probabilmente Le compra lui Ma non vuole dirlo Nostre è giusto È una famiglia Ma è così No però Descrivicci un po' Come ve la vivete Siamo una famiglia Comunque Beh famiglia è buona Loro mi motivano Non cristiano Nel senso che Cioè se sei da solo Nella vita Sì puoi andare Da qualche parte Ma capito Quando c'è gente dietro Comunque io sono motivato Quando ci sono loro Sono felice Capito Quando è il momento Di andare in studio Fare le cose Sono in quel mood Ma quando sono con loro Sono felice Siamo una famiglia Siamo fratelli Se uno muore Se uno muore L'altro muore Capisci cosa intendo Viviamo con un codice Alla fine Questa è la cosa Quale sono le regole Le regole Qual è la scala valoriale Essere le ali tra di noi Solo questo Alla fine Uno Ma non ce ne sono Neanche altre Alla fine Nella vita Che vi ha tradito Sì Cosa è successo Senza fare nomi Cioè che Intendi per tradimento Voglio capire Fala più edulcorata Cos'è per voi Un tradimento Tradimento è Quando tu Ti leghi A un gruppo Di persone Rappresenti Quel gruppo Di persone E poi A un certo punto Switch E te ne vai via Facendo Chi ti ha messo Chi ti ha dato da mangiare Chi ti ha portato fino qua Chi ha fatto le cose per te Se tu fai parte di una cosa Non puoi essere un giorno Puoi essere blu E il giorno dopo sei rosso Capito cosa intendo Mi è abbastanza chiaro Sì io sono rosso stasera Mi volete picchiare? No No Dai In realtà vorrei affrontare L'argomento religione Hai Da sempre avuto Un approccio religioso O In Corso d'opera Durante la tua carriera Magari Hai riscoperto Questa cosa qui Bella questa domanda Allora Diciamo che io Sin da quando sono piccolo Sono cresciuto In una famiglia Cristiana Mia mamma Ogni domenica Mi portava in chiesa E Ho fatto Tanti anni Nella mia vita in chiesa Sia come Chirichetto Andavo sempre nella chiesa di zona Dove si ritrova Tutta la zona Tutto il nostro quartiere Tutto San Siro Perché comunque Non ci sono solo musulmani Ci sono anche cristiani Quindi prima Quando ero piccolino Ti parlo sei Sette anni Stavo lì in chiesa E seguivo E seguivo anche Mi piaceva seguire Comunque Religione Cioè non era una cosa Che non mi Mi piaceva ascoltare E Solo che Poi crescendo Non 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 l'ho sentita Troppo come una religione mia Perché Comunque sono anche Cresciuto in un quartiere Come San Siro Dove appunto Sono tante persone musulmane Quindi È come se Ho sentito più Più parte Quella religione A me E soprattutto Dopo che sono diventato Famoso Ho veramente capito Che C'è Dio reale Capisci Quindi Anche dopo che Soprattutto dopo che Diventi famoso Capisci tante cose Che prima non capivi E quindi Anche questa cosa Anche soprattutto Se fai certe azioni Buono Fai certe azioni Che non sono buone Questa cosa Io personalmente La sento tanto dentro Quindi questa cosa Di alla me Mi aiuta tanto Perché magari Quando io sono a casa Da solo Così Prego Da solo Con me E questa cosa Mi aiuta a liberare Io ogni tanto Passano Tipo periodi Dove io non prego E non Non mi sento bene Con me stesso Quando poi torno A pregare Torno alla mia pace Questa è la cosa E che è un po' Una forma meditativa Io la vedo Io la vedo così Interessante anche Il rapporto Che hai avuto Con due Diciamo E hai imparato Qualcosa Anche da Da cristianesimo Perché è bello Questo tipo di Cultura Che hai ricevuto Nasci cristiano E diventi Musulmano Magari uno può prendere Anche Qualcosa Del buono Sì Degli insegnamenti Non so Guarda Non Cioè la religione cristiana Ma non Non l'ho presa Perché comunque Se tu vedi Tutto quello che succede Anche comunque Le cose che sono successe Nella chiesa Le cose che escono Gli scandali Le robe Non la trovi credibile No Però sai Magari rappresentanti Un conto Sì Però comunque C'è Anche la bibbia È stata modificata Sono Capito Tu ci hai fatto una puntata Su questa cosa Quindi Ci siamo capiti Sì Sì Make sense Per me Ti volevo chiedere Invece La situazione Del tuo passaporto Esatto Esatto Cosa ci racconti La storia Del tuo passaporto Cosa è successo Il passaporto È stato tolto Adesso Per fortuna Il giudice Mi ha dato un mese Quindi Grazie al giudice Ti voglio bene Grande giudice Veramente Tanto rispetto Anche se un mese Dovevo andare in Giamaica E non posso andarci Però Però La porti a Milano La Giamaica Il mio È piaciuta Il mio passaporto È stato tolto Per questo motivo qua Per questa cosa Che sto rollando qui Per l'erbetta Esatto Alla Party di Trances Baby Sono stato fermato Mentre ero alla guida Avevo addosso Dieci grammi di marijuana Uso personale E quindi Mi hanno dato Il cert Quindi pipì nel bicchierino No Sì dovevi fare Sono andato una volta E gli ho detto Io non ci ritorno mai più qua Io faccio i milioni Pago le tasse Sono un giovane Sono imprenditore Tu mi vuoi qui tre giorni Alla settimana Mi vuoi pelare i peli A farmi i test Che sembro un barboncino Cioè ma come mi riduci E quindi Ti hanno tolto Il passaporto Perché Questa cosa Non esiste nel mondo Cioè dappertutto Tutti gli artisti fumano Cioè mi sto fumando le canne Capisci Se faccio del male a qualcuno Faccio del male a me stesso Sono canne in effetti Facciamo una battaglia Tutti assieme Per la legalizzazione Vogliamo fare un appello Matteo Salvini Che è un sostegnore Magari adesso La gente ride Diciamo Sì ma quello Si fuma le canne Ma che cazzo me ne frega me Però io mi fumo le canne Adesso devo andare A fare un evento In Jamaica Dove c'erano tutti I più grossi del rap In America Certo Ti è saltato il lavoro Anche Popkin Che è il pioniere Del dancehall In Jamaica E mi è saltata Perché? Perché mi fumo le canne Cioè capito Mi è saltata una cosa Di lavoro Cioè quindi questo paese Capito Non è che proprio Mi aiuta Capito È questa la cosa No no Sono d'accordo Poi ovviamente Ognuno ha le sue colpe Se mi devo prendere Le responsabilità Me le prendo Però perché mi fumo Delle canne Addirittura Non farmi lavorare Non farmi fare il lavoro Allora Cosa volete Che torniamo in strada Ed è il motivo Per il quale Te ne sei andato via Dall'Italia Esatto Perché in UK Si può fumare Sei andato in UK Tu hai fatto un anno in UK Giusto? Sì esatto Come ti sei trovato Rispetto all'Italia La trovi Più avanti Ma quanti italiani Sono andati a Londra? Eh non sai Credo ci sia La comunità di italiani Una delle più grosse Del mondo Forse Credo Lascia stare Che sono famoso adesso Perché magari uno può dire Sì è grazie a cazzo A te ti trattano bene Perché sei famoso Però no Perché come trattano me O come trattano la mia gente Io vedo come trattano anche Le altre persone Quindi vuol dire che Siamo tutti sullo stesso piano Però anche la cosa Che quando Io stavo per ripartire Perché poi sono venuto qui A fare Ramadan Quando io ero lì Vedevo per strada Ma anche quando Forse quando anche Ero in America Se non sbaglio Vedevo per strada Che la gente Ci scriveva Buon Ramadan Lasciavano le insegne Con scritto Buon Ramadan Capito Una città più integrata Un paese più integrata Non ho mai visto queste cose Ma poi Io adesso Non è che voglio dire Agli italiani Dovete Perché gli italiani Sono molto conservisti Però comunque È anche una cosa Di religione Alla fine Tu ti senti italiano Certo che mi sento italiano Però non mi sento Rappresentato da questo paese Capisci Tu percepisci Aspetta Voglio metterlo giù Io sono un italiano Che è nato Con una mentalità Diversa Dalle persone In Italia Ma tu pensi Che ci siano Delle persone Che non ti reputino Italiano Invece Non lo so Cioè Credi che l'Italia Sia un paese razzista Ok O avete vissuto Del razzismo Io Non posso parlare Sono bianco Magari loro Possono parlare Ok Io Non Magari Beh Ma il razzismo Puoi viverlo anche Non Cioè Perché sei musulmano Perché Voi avete mai subito Episodi Razzisti In Italia E definireste Come diceva Fede L'Italia è un paese razzista Chi vuole parlare Prego Prego Vieni 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 Io personalmente No Avvicinati Attacca Io personalmente Abbasso un attimo Io personalmente No Però secondo me Tipo Almeno 70% Di ragazzini Di qualsiasi generazione Tipo La nostra O poi I più piccoli La vivono Spesso Un po' Capito Che sia a scuola Che sia A calcio Capito Sì sì Secondo me è vero Ma La vita Paragliana Sì 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 Beh è chiaro Però secondo me Il destino di questo paese È quello di essere Nelle nostre mani Dici Esatto Però questa cosa qua Non viene tanto capita Perché Ma sarà inevitabile Sarà inevitabile E ti dico la verità Allora Io non è che voglio criticare Le persone anziane Di questo paese Però c'è un grosso C'è una barriera Capito Qua ci sono le persone vecchie E qua ci siamo noi giovani E non ci capiamo a vicenda Capito Ma tanto stanno cercando Di ritardare l'inevitabile Moriranno Sì Ok La roba io non dico Che spero che muoiano I vecchi in Italia Così Così cambia la mentalità Capito No ma non l'hai detto Adesso che l'hai detto Sembra che volevi dire Però voglio dire Però voglio dire Sti ragazzini Sti ragazzini giovani Comunque Cioè devono capire Che loro sono Il futuro dell'Italia Quindi Se loro Criticano tanto Le persone anziane Però non ci mettono Del loro Anche tipo la roba Dei Maranza Che vanno su rete 4 Cioè quella roba è ridicola Li prendono per il culo Davanti a tutti E non lo capiscono Vanno lì E non Questa merda È veramente ridicola Ma in televisione In realtà cercano Di creare lo stereotipo No Appunto Appunto Che questi ragazzi Non dovrebbero neanche andare lì Capito Cioè Ah di ci sbagliano Sì ma perché poi invitano Tre ragazzini Che stanno sulle canne Sulle panchine A fumarsi le canne E scrivono la musica trap Cioè ma che cazzo di senso c'ha Capito E questa è un po' la roba I ragazzini giovani Di questo paese Secondo me dovrebbero un attimo Iniziare ad avere una mentalità Perché tanti ci sono Ma veramente tanti Io ne ho incontrati tanti Io parlo sempre con queste persone Perché mi fa piacere Se tu sei un ragazzino come me E hai fatto i soldi E stai iniziando a vedere le cose In un altro modo Quindi Ti rispetto Capito Anche tu ce l'hai fatta Sei uscito dalla merda Quindi io ti rispetto per questo Capito E la roba è che vorrei che tutti Questi ragazzini Creino una cosa bella Perché veramente l'Italia Abbiamo Cioè l'Italia è troppo bella Capito Però il problema è Le mentalità Ma cambierà Cambierà Tutto cambia È tutto ciclico Abbiamo un contributo comunque ragazzi Una sorpresa meravigliosa Una sorpresa per te Tia Devo dire che ci hai colpito molto In questa occasione Devo dire A fare il schermo Scusate ragazzi Se potete Ok Devo dire È sfoderato una performance Una dialettica pazzesca Sono estremamente soddisfatto Del mio recente acquisto Da Foodstreet Mi chiamo Rondo E la mia esperienza di shopping Su questo sito È stata assolutamente positiva Innanzitutto Devo sottolineare La vasta selezione Di calzature sportive Fanno gli scam Foodstreet Ma poi come parli Ho trovato esattamente Ciò che ho cercato Ma dove l'hai trovato Sta roba bro Gamma di marchi di qualità E stili All'ultima volta Marchi di qualità Allora devo dire Che mi è capitata ieri Casualmente su TikTok Ho fatto la scarico Perfetto Per domani È bellissimo È bellissimo Ma dai Cosa Davvero Cosa ne pensi I chat GPT Ci sono rapper In America Che scrivono Con Con chat GPT La mia Opinione È che secondo me L'intelligenza artificiale È già nella musica Da tanti anni E la gente non lo sa Ah dici Secondo me Questa è la mia opinione Che ci sono già tracci Che adesso tutti dicono Eh minchia Stanno uscendo le canzoni Con l'intelligenza artificiale E se magari Già esistevano E ce l'hanno fatto sapere Solo a noi ora Questa è la cosa E secondo me Anche la roba È che l'intelligenza artificiale Sta distruggendo Tutto il mondo Dell'arte E della roba creativa Perché Cioè Comunque io sono un rapper E creo Capito Noi viviamo Perché creiamo Un qualcosa Creiamo Abbiamo una visione E questa cosa Di far uscire le tracce Con l'intelligenza artificiale C'è un grosso problema Perché la gente Poi non riconoscerà più Che cosa è vero Da cosa è finito Tanto che si è detto Che forse Candidavano al Grammy Un pezzo Fatto con l'intelligenza artificiale Hanno fatto anche dei test Cioè Facendo ascoltare Alle persone Tracce Senza Conoscere Diciamo L'identità E alle volte Hanno fatto tranquillamente A scambio Cioè Questa Intelligenza artificiale No? Sia strumentale Che vocale Perché effettivamente Non è facile È un problema Ma io Sono dell'opinione Che l'unica cosa Che non riuscirà A replicare Bene L'intelligenza artificiale È la creatività umana Secondo me In qualche modo Se tu oggi Scrivi un testo Su chat Se io domani Ti faccio vedere Una copertina Del mio album E ti dico Questa l'ho fatta Io E tu mi dici Wow figa Non lo sai Magari c'è l'intelligenza Certo Però secondo me La componente umana Sarà sempre fondamentale Nell'aspetto creativo Poi In alcuni ambiti In alcune verticalità Ruberà Cioè Ucciderà posti di lavoro In maniera incredibile Tant'è che si già Si sta già pensando Al reddito universale No E certo Non maschere La sua idea E qual è la cosa Che ti spaventa Di più Della tecnologia Chi ci ascolta Che Secondo me Ormai Ha già fottuto tutti Siamo fregati Io penso che Le macchine Arriveranno a comandarci Tranquillamente Ma già basta vedere Cosa ha fatto TikTok Su sti ragazzi Sì Sì Quello È stato Diciamo Captare Un problema E cavalcarlo Sulla soglia dell'attenzione Sì Soglia dell'attenzione Pari a zero Ti do contenuti E poi è un meccanismo Vizioso Che si continua A alimentare Perché già Sono settati in quel modo Continuano a mangiare Voracemente Prima dicevo Fast food Fast life Quello sì È un bel dramma Ti volevo chiedere invece Rispetto alla narrazione Che i giornali Hanno fatto di te E cosa ne pensi Sono usciti articoli Secondo te Troppo clickbait Hanno portato a fare Una narrazione Che verteva A dipingerti Come La persona E l'artista Che non sei Magari Sì Questa cosa Ti dico proprio La verità Proprio a livello umano Mi ha Mi ha dato fastidio Perché Io ho costruito Tanto Capito Cioè Veramente Ho sputato sangue Per essere dove sono E queste persone qui Cioè Io se sono fuori Capito Come dicevo prima Se sono in UK O in USA A me non mi è mai successo Che una persona Fermo Litigo Mi succedano cose Capito Vivo la mia vita normale Nessuno mi mette Sui giornali Gli unici giornali Che mi riportano Sono qui Perché succedono le cose qua Ma non scrivono mai cose vere E ogni volta Cioè Io faccio Un lavoro Per pulirmi L'immagine Per dare Una roba E loro me la risporcano subito Capito Quindi tutto il lavoro Che io faccio Allora alla fine Me lo sporcano sempre Mi dici una roba clickbait Totalmente finta Che è girata su di te Una volta Ma Ma Tante 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 Ogni volta che c'è qualche problema Qualche Cosa Mi associano a me Al mio nome Nei giornali Anche la trap La roba dei testi Violenti O anche la roba Del Sta roba qua Torniamo nel rap game Amici Perché io ho visto Una cosa che mi ha gasato Un sacco Che è Il fatto che tu Sei Il primo Rapper italiano O trapper Preferisci trapper O rapper Il primo rapper italiano Ad aver fatto La campagna ufficiale Di Ovo Di Drake Che è il brand Di Drake Giusto? Forse L'aveva fatto Prima Forse Ma va Raga Mai visto Io Ma va Ha fatto qualche scatto Ma Si sarà scattato lui Delle cose Con Ovo Ma la campagna ufficiale Di Ovo Sono sicuro Che sei stato Il primo in Italia E come è nata Tu hai conosciuto Drake Hai un rapporto con lui Ci siamo scritti su Instagram E poi quando sono andato lì A Toronto C'era tutto il suo entourage E ho visto un po' La situazione lì E ho fatto delle foto Per ovvio In un ristorante italiano Che si chiama Sotto Sotto Che è in Canada E tra l'altro Un ristorante dove si mangia Veramente Bene bene Sembra veramente Di mangiare in Italia E ho fatto le foto Così E Già Mi sembra tipo Dopo Dopo che avevo pubblicato Sturdi Mi sembra che Non mi Eravamo tipo Entrati in contatto Così dopo Sturdi Lui aveva visto il video Lui è super Recettivo Su I newcomers Del rap Sì Mi sembra Vabbè Lui ci collabora Quando stanno per esplodere No? O quando sono già esplodati Sì però Comunque È bello vedere una Figura così grande Alla fine Aiutare così tanta gente Cioè Una cosa Ma Chi sono stati i tuoi padri Musicalmente parlando? The rap A parte Fedez Allora Ma non solo in realtà Perché prima No no Io sono uno che dice sempre la verità Vai Io quando ero piccolo Io quando ero piccolo Comunque ho ascoltato tanto Anche Fedez La Gridalo cazzo Gridalo Sì però al passato Musica vecchia Pezzi Pezzi come tipo Si scrive Gli avevo detto anche lui Si scrive Schiavitù Si legge libertà C'è comunque quelle robe Cioè io Vivendo me la data Avete visto come sono cresciuti bene Da bambino Da bambino Comunque La cosa che ho notato Che prima nel rap Vecchio I rapper portavano sempre Un Portavate sempre tipo Una voce Ognuno faceva una Cioè tipo tu portavi Capito Questa roba di rivoluzione Un po' sociale io Sì Tanta gente portava anche robe sociali Così Che adesso secondo me Si sono un po' andate a perdere Comunque Ti dico la verità Io da quando Sino a quando sono piccolo Cioè il primo disco Mia madre aveva preso da Non è dispregiativo però Da quelli che vendono Le cose in piaggia Sì Sì Mia madre comprò un cd Che era quello di Fabri Fibra Capito È tradimento Non me lo ricordo Vabbè uno di fibra Ero veramente piccolo E mia madre c'era Sti cd rap Che mettevamo lì Nella macchina Quanti anni ha tua mamma? Giovanissima Eh infatti Mi ricordo 43-44 anni È super giovane Porca puttana Perché infatti Dicevo per comprare Un disco di fibra Sua mamma Vuol dire che Ma lei non è che era fan È che era proprio fan Della musica in generale Prendiamo il disco del momento Mia madre sta acculturata Sulla musica Quindi capito Ogni cosa Io l'ho imparata da lei Cioè veramente Stracculturata Sulla musica Invece tipo Un artista italiano Non hip hop Cioè uno non rap Che ti piace Eh O che ti piaceva Anche Un tiziano ferro Anche poi Lui è stato rapper Non per mancar di rispetto No 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 Le canzoni non melodiche Spaccano Tutta quella scena lì Spacca Nino D'Angelo Un pazzo Nino D'Angelo Un pazzo Un bel pazzo Numero uno Grande Sì Nino D'Angelo Sì Tommy Riccio Ecco Tommy Riccio Mi manca Vedi Gigi Finizio Gigi Finizio Gianni Vezzosi Cioè quella Quella roba Spacca Ma è vero Perché comunque Alla fine è sempre Rappresentare Voglia Ma poi Sì perché è proprio Una roba di cultura Come in America C'hanno la roba Che c'è Sono in Florida Hanno la loro roba New York Hanno la loro roba Anche noi a Napoli Abbiamo questa roba qua Vabbè Napoli È un po' la nostra musica Country Sì Per gli americani È caratteristica sicuramente No in realtà È veramente la musica Più gangsta che esiste Sì vabbè Anche country è super gangsta Perché alla fine I cantanti non melodici Portavano una realtà Gangsta però In una forma Veramente bella Di musica Ma patosa Che quindi tu riuscivi A veramente A capire Quello che loro Sì il sentimento Il sentimento Del gangsta Non so Il gang Sì io dico gangsta Perché sono sulla mia shit Sì 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 Però Ci siamo capiti Il cuore dai Chiamiamolo così Capito Lui dice gangsta Perché è sulla sua shit Eh beh ovvio Ci hai capito È certo È veramente Pazzesco Ti volevo chiedere invece Di Di esperienze musicali Che hai avuto all'estero Se ti è capitato Di bazzicare In degli studi Particolari So che hai lavorato Col fonico di Pop Smoke Per esempio Come è andata Era la prima volta Che ero andato lì A reccare il video Di New York E sono finito In questo studio Che si chiama Quad Studio Ed è lo stesso Dove fu sparato Tupac Ok Nel ascensore E sono andato lì Avevo recato Dove Ah è lei No no New York Ah New York A Times Square Lì ho conosciuto Corey Che è un grande Infatti Big shout out Per Corey My bro Ciao Corey È veramente Un grande Lui C'è proprio Reccare con lui È come C'è capito Ha delle skills È un grande Sì 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 È un grande Lui mi ha recato New York La prima volta Che sono andato lì L'hai sempre contattato Via Instagram No mi sembra che lui Era già in contatto Con anche io Ah ok Con anche io Ok Credo Posso dire Shout out anche anche io Perché secondo me È uno dei produttori Più forti del momento Fax Devo dire Fax assolutamente Vabbè torniamo a noi Volevo chiederti una cosa Rispetto al tuo viaggio A LA Sei stato Qualche mese fa A LA Giusto Sei stato Dai Crips Nel quartiere Nel quartiere Di Nipsey Asshole E anche lì Mi piacerebbe sapere Come sei entrato In contatto con loro E come è stata L'esperienza poi lì Perché non tutti Non tutti ci possono andare Giusto Esatto Non possono andarci Io ho girato Tanti quartieri Nel mondo Cioè ogni volta Che vado in una città Voglio sempre andare A vedere il quartiere Che c'è Capito Perché ogni cosa Ha la sua realtà E quando sono stato Lì a LA Ho fatto un pezzo Con Un ragazzo Che si chiama New Jack Shout out New Jack È un ragazzo Che viene da Slowson In Crenshaw Questa è la maglietta Che ho Che è in California Sì È un quartiere Da dove viene Nipsey Assault R&P Nipsey Comunque Mi hanno accolto Perché comunque Io sono Sono in quella roba lì Quindi È stata una Una bella esperienza È stato figo? Sì Nel quartiere di Nipsey Assault Ma non sono della crew Di Nipsey Assault Giusto? È un'altra crew No Sono un set Che fanno parte Di quel quartiere Fanno parte Di quel quartiere lì Esatto E Nipsey Assault Secondo te Come Cosa ha lasciato Al suo quartiere? È uno che È un grande È riuscito a È una leggenda A ispirare le persone Cento per cento Nipsey Assault È una leggenda Ma anche solo il suo nome Lo dice Capito? Nipsey Assault Ma secondo te Era già leggenda Prima di morire O il fatto Sì Sì Io ricordo E lei Io ero lì Quando è successo Cioè non fisicamente Nel posto Ero a lei Quando Quando gli hanno sparato Ricordo che il giorno dopo C'erano un sacco di murales Su Con il suo volto E mi domandavo Se fosse già leggenda Prima di morire O se è stata la morte A renderlo leggenda Era già una leggenda Era già una leggenda Sì la sua La sua morte è stata Una grande perdita Per il rap Perché comunque C'è veramente Nipsey Assault Io me l'ascolto A me mi dà carica Mi dà motivazione Tutto quello che dice Il suo modo di parlare Quello che racconta Nei testi Ti veramente Ti spinge Ti ispira tanto Ti spinge a far Veramente tanto Lui Anche il suo brand Vedi questo Il suo brand Si chiama The Marathon Perché alla fine Lui dice La vita è una maratona Capito? Sì sì Che è la verità Questa è la cosa Quindi Big Up Per Nipsey Assault Giusto Sì Trenches Records Ci vuoi parlare un po' Di questa etichetta? Sì Allora Trenches Records È una nuova etichetta Che abbiamo aperto Io e Un altro mio socio Ale È una realtà Che comunque Secondo me A parer mio Non si è mai vista Ma non parlo Perché Sono di Dal mio lato Capito Parlo perché È proprio una cosa Che si è creata Siamo io Arti5 Melons Faneto Nip Che è una ragazza Che è straforte Bladem E Tite Tite Lawoz Comunque noi abbiamo tutti La stessa visione Siamo proprio Una realtà molto americana Siamo su una nostra wave Adesso vogliamo fare Probabilmente anche un disco Di tutta l'etichetta Tipo un mixtape E soprattutto Ringrazio tantissimo Arti Per aver creduto Nella mia visione Perché l'ho stato il primo Il primo a entrare In questa cosa Sì quindi io Princess Record Non la vedo troppo Come una cosa mia La vedo proprio Una cosa Come di tutti insieme Capito Non voglio essere un capo Non voglio essere un leader È un movimento Di tutti quanti E spingiamo La nostra merda Siamo come Come tutti Come le ticette americane Noi abbiamo lo stesso La Young Money Ma senza Birdman Perché Birdman Era il capoccia Della Young Money Siamo noi Infatti quello che ha ammazzato La Young Money Credo sia stato proprio Il fatto che c'era un capoccia E che non abbiano fatto gruppo No I don't know bro Ti posso chiedere di Arti5 Il rapporto che avete Come vi siete conosciuti È un fratello E Vi siete Non siete della stessa zona Perché lui è di Bicocca Lui è di Bicocca Lui viene da zona 9 Arti A differenza di tutte le altre persone Anche che magari Non lo so Capito Magari anche che Le avevo più vicine O cose Veramente quello che Ha capito Veramente quello che io voglio portare Capito Si è proprio unito a me Mi ha detto come Capito Facciamoli insieme Facciamo questa merda Capito Quindi io sarò Sarò per sempre grato a lui C'è molta gratitudine Tra voi Sì 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 Credi che la scena rap italiana Ti abbia O Ostacolato In qualche modo Sì Credi che facciamo Cioè Credi che ci siano Vabbè ti dico quello che credo io Perché tanto se ti chiedo Quello che credi Tu non me lo dici Io credo che ci siano Delle Non voglio dire Maffiette Perché forse È un termine Troppo eccessivo Però che Ci siano Delle sacche di potere All'interno Della discografia Soprattutto nell'urban Soprattutto nella trap Che in qualche modo Possono impedire Se vogliono Di emergere A degli artisti E tu Tu credi Di aver vissuto Questa esperienza Voglio spezzare Una lancia a favore Di chi Alla tua persona A me Sai perché Perché a differenza Di tante altre persone Magari Gente che dice Tipo Dai facciamo il video Spingiamo la pace Nelle strade A Milano Poi Magari nelle strade Non ci va neanche A Milano Capito E poi magari Fanno pure i concerti In zona tua E non ti invitano Neanche Capito Perché magari Dicono no Quello È beef con questo No perché è quello Questo non è rispetto Capito Invece tu Tutta la gente Dice cose E sei stato il primo A invitarmi All'OVMI Dove io sono stato bannato Dove non sono mai riuscito A suonare nella mia città Tu mi hai fatto suonare Davanti a tutti quanti Quindi questa cosa ti fa onore A te Capito Io sono contento Che lo apprezzi E davvero ti ringrazio Perché Non so se ho dato 5 giusto Ma No perché Sono d'accordo Sul fatto Che Chi parla di strada Nel rap game Molto spesso Non rispetta Le regole della strada Ed è il motivo Per il quale Io personalmente Mi sono allontanato Da quell'ambiente lì Quindi La vivo diversamente Da lui Ma capisco Il punto di vista Da un certo punto Da un certo punto Diciamo che poi Ognuno Come tutte le cose Interpreterà La strada A suo modo Ah beh certo Ovvio Ovvio Ti repudi Una persona Una persona Triste Malinconica Beh non sei proprio Diciamo L'entusiasmo Ma Diciamo che Una domanda seria No sei serio Quando ti capita Di sentirti triste Ti chiedi il perché Allora ti dico la verità Tipo io prima Della musica La tristezza Non ce l'avevo Perché non avevo niente Capito Quindi non potevo Essere triste Non avevo nulla E comunque Anche quella roba lì Non potevo essere triste Perché ero nella merda Capisci Cioè Dovevo uscire Dalla merda Devi solo uscire Quindi non potevo Non avevo tempo Di stare lì a casa Depresso A piangermi addosso Ero in giro In strada A cercare di far soldi A cercare di Campare Capisci Non avevi tempo No no Per pensare Ad altro Sta cosa della tristezza Ti dico la verità Mi è arrivata tanto dopo La musica Cioè da dopo Che ho iniziato Col successo Sì col successo Perché tipo Prima capito Alla fine Ero un ragazzo Nessuno ti conosce Nessuno può dire niente Può fare una serata Nessuno sa Che cazzo sai Capito Quindi non Non hai problemi Cioè Questa cosa Della tristezza Magari mi è venuta Dopo che sono iniziato A diventare famoso Perché senti di più Il peso delle responsabilità O perché hai perso Parte della serenità Serenità Nonostante Un scenario Economicamente Eccezionale Magari Allora Ti dico anche Un'altra cosa Io sono Molto triste Quando sono qua Qua dove? A Milano? In questo paese Sì perché Però ci sta Perché Che cazzo Ti abbiamo fatto Perché è la tua città Capisci Quindi hai Energie diverse Senti dell'energia addosso Quando sei nella tua città Certo ovvio È casa Sì hai delle energie diverse Capito Magari dico Non è che proprio Sono triste Però mi è capitato Anche a me Di avere momenti No Come tutte le persone Sono umano anch'io Soffro anch'io Ho dei sentimenti anch'io Però la roba è che Cioè Tipo Che cazzo stavo dicendo Spagando Ricordo Della tristezza Quando tipo Sono in America O quando sono in UK Vivo bene Capisci Perché forse È più il tuo mondo Perché sono lontano da tutto Non vedo nessuno Non vedi problemi Sento nessuno Non ho problemi Sono lontano dalle cose Capisci Cioè qua Senti problemi più vicini Qua è la gente Che ti crea problemi Capisci Quindi senti Milano Come la tua città E io rispondo sempre A tutti i problemi Capisci E questa è la cosa Non mi faccio mai Mettere i piedi in testa Da nessuno Nessuno a me Mi può mettere i piedi in testa Ho capito Nessuno Sto cercando di leggere Tra le righe Ho capito Sì sì No no Perché Allora Posso farti una domanda Poi al limite la tagliamo Posso farti Al limite la tagliamo Cioè Non mi chiedere di ops Cosa vuol dire raga No meglio così Meglio così Cosa vuol dire Non mi chiedere di ops Meglio così Meglio così Non sappiamo nulla Non sappiamo nulla Eh? Che? Ah non mi chiedere di altri Vuol dire Ok Allora non te lo chiedo Niente No ma in realtà Non volevo fare Riferimenti espliciti Agli altri Perché ho capito Che non vuoi farli Ok? Però mi è parso di capire Da quello che tu stavi dicendo Che A Milano C'è una situazione Comunque Mi passi l'NC Cosa? Mi passi l'NC C'è una situazione tesa Giusto? Vai avanti Questa tensione Secondo te Si potrà distendere Prima o poi Tu Ti piacerebbe distenderla O Non te ne frega un cazzo Non ho sbagliato io in questa merda Capisci? Io sono sempre stato buono con tutti Ho sempre mostrato il mio rispetto Come con te Come quando entro in una stanza Mostro il mio rispetto Però Il mio rispetto è stato scambiato Magari perché tu dici Ah questo è troppo buono Questo è troppo scemo Per debolezza Però se tu poi dopo pensi che io sono troppo scemo Ti dimostro che non sono scemo Come penso Capito? C'è come pensi tu È la cosa che io Sono veramente buono Cioè sono una persona buona Capisci? Cioè se tu non hai un problema con me Non posso avere un problema con te È che la gente magari ha detto Ok lui è così Gli faccio dei torti Perché tanto non mi fa nulla Capisci cosa intendo Però poi dopo Chiara Quindi è una delusione Quella che senti banalmente Un senso di Sì perché io alla fine ho sempre aiutato gente Che si è rivelata Snake Allora parte la paternale di Federico Vai Posso farla? Faccio il nonno vecchio Al momento giusto Voglio fare il nonno vecchio Ti voglio dire una cosa che ti ho già detto Ma che ci tengo a dirla anche in pubblico Che secondo me Tu hai Una grande occasione tra le mani La tua grande occasione È quella Di far del bene Al tuo quartiere E siccome so che vuoi farlo Ok Siccome so che vuoi farlo Sfrutta questa occasione Perché poi andrai in America Avrai l'opportunità di diventare grosso in America Io ti auguro Di diventare il primo rapper italiano Veramente Ad essere famosa in America E non a millantare di esserlo Ok Però quando torni qua Come dici tu I don't give a fuck Ma Porta in alto il tuo quartiere Aiuta le persone I tuoi amici La tua gang La tua famiglia Fai del bene E pensa a far del bene Non ti perdere A fare cazzate Perché Perché cazzo Perché sei bravo Sei un bravo artista Fai musica E mi spiacerebbe Cioè Vedere altre cose Che non sono musica Capisci? E facendo del bene Ti torna il bene Come dicevi tu No? Capito? Thanks Allora ragazzi Innanzitutto Io faccio un grande In bocca al lupo a Rondo Facendo il saluto Che ho appena imparato Ah non mi volevo No 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 Basta basta Perché? No no Non si abusa del saluto Ma perché non si abusa Ma perché non si abusa? Ah ok Lo vedi? Ok Pensavo che non eravamo più amici E ho detto che cosa ho fatto E volevo ringraziare Rondo Per essere Vai facciamo così Ok vabbè Questo qui però Lo facevo anch'io da gioco Pensavo che si erano evolute Un po' le cose Volevo ringraziare Rondo Fargli un grande In bocca al lupo Per la sua carriera Spacca in Italia Vai in America Spacca il culo in America Torna a San Siro Da re E Tante belle cose Tante belle cose Questo era Rondo da Sosa Muschio selvaggio amici Ci vediamo Una prossima puntata Ciao ragazzi Non lo dire più in giro Che Non dire più in giro Che lo seguivi Che ormai Dice queste frasi da vecchio Un anziano Un saluto alla gang Un saluto alla gang Grazie amici della gang Grandi Sì ma non ti picchierò Tranquillo Anche perché No no Beh uno contro uno Non lo so No cap Ragazzi Ciao Ciao Ciao